Roberto, sei andato via di casa? Non ci credo. Ma com'è Mario mio? Domani io e sorella Sabrina, andiamo al circeo. Ma perché non vieni con noi? Ci fai massaggi. Fermi tu! Ma questa è una squisita riunione di famiglia. E se cancellassimo gli uomini dalla nostra vita? Basta, Ombres. Vorrei dormire abbracciata ad un corpo amico, complice. Mi sono innamorata. E perché mi segui? Perché mi sono paghito di lei. Mi sono fidanzata. E indovinate con chi? Faccio morire! Ma dai, non sono amico la prima volta. Ma sarebbe la prima volta che il vestito non ha voglia di togliermelo. Mi piacciono le trame complicate, va bene? Mi dispiace, ma io in mezzo a sto casino fra sorelle non mi ci voglio trovare. A volte la vita è incredibile. Io sono sicuro che nei romanzi c'è tutto quello che serve per essere felice. Noi nella vita ci si meritava uno come Babbo. Ma uno come lui non si piava a noi.